Ciao e benvenuto in Mindcast, il podcast di Mindcenter che ti racconta cosa avviene davvero dentro lo studio dello psicologo. Io sono Luca Mazzucchelli e oggi parliamo di performance sportive e ansia. Men sana in corpore sana. Cari amici di Mindcast, bentrovati a un nuovo episodio del podcast dedicato al mondo della psicologia. Il podcast che dà voce al mondo spesso taciuto dei percorsi terapeutici, così come avvengono negli studi degli psicologi. Noi di Mindcenter abbiamo voluto condividere il lavoro che silenziosamente svolgiamo tutti i giorni nei nostri studi sparsi in tutta Italia e nelle terapie online per dare un'idea di che cosa sia davvero un percorso psicologico. E abbiamo voluto farlo raccontando le storie di coloro tra di voi che hanno avuto il coraggio di chiedere aiuto per migliorare la loro vita. Ma andiamo alla storia di oggi, una storia che ha a che fare con le performance sportive e l'ansia. Una storia che illustra quanto oltre all'allenamento del corpo sia essenziale l'allenamento della mente, la gestione delle proprie paure, dei propri pensieri. Non a caso i latini dicevano mensana in corpore sano. Quanto la sapevano lunga i latini, o no? Andiamo quindi a presentare la storia di oggi di Marcello. Marcello contatta Mindcenter compilando il forum sul sito mindcenter.it. Leggendo la sua richiesta mi colpisce come si è espressa molto chiaramente. Marcello chiede di migliorare le sue performance sportive affrontando dei problemi che si porta dentro da ormai diversi anni. Decido di indirizzarlo al dottor Michele Bisagni, uno degli psicologi di Mindcenter specializzato in psicologia dello sport e performance. Michele è anche uno psicoterapeuta cognitivo-comportamentale e ha una passione per la ricerca che lo porta ad avere un approccio molto pratico e scientifico nel suo lavoro. Il giorno del primo colloquio i due si incontrano in studio. Il dottor Bisagni, dopo essersi presentato, illustra brevemente a Marcello il suo metodo di lavoro, data la sua formazione specifica in psicologia dello sport, e Marcello ha subito la sensazione di essere nel posto giusto. Prende parola e inizia a raccontare di sé. Ha 28 anni, lavora come magazziniere, è sposato da quattro e ha un figlio di due. Gioca a calcio dall'età di 7 anni, senza aver mai interrotto l'attività sportiva. Il suo talento e la delicatezza del suo piede sinistro hanno da sempre colpito l'attenzione dei suoi allenatori. Ben presto gli è stato affidato ruolo di centrocampista centrale, una posizione di grande responsabilità e anche di grande creatività. Marcello deve ricevere il pallone dai difensori e riconsegnarlo agli attaccanti, mettendoli nelle migliori condizioni per segnare. La sua classe non è passata inosservata e dopo un'accurata selezione, tra i 10 e i 15 anni ha militato nelle giovanilli della compagine della sua città, la cui prima squadra era iscritta a un campionato professionistico. Il sogno dei suoi giovani calciatori era quello di fare tutta la cosiddetta trafila per poi un giorno esordire tra i grandi, trasformando la propria passione in un vero e proprio lavoro. Purtroppo i sogni di Marcello si sono interrotti in età adolescenziale. A 15 anni infatti non è stato confermato e si è ritrovato nella condizione di doversi reinventare, ridimensionando quindi le sue aspettative. Come ha spiegato lui stesso durante la seduta, il mondo del calcio italiano prevede ben nove livelli. Ci sono infatti le tre serie di professionisti, ossia la serie A, la serie B e la serie C, i cui protagonisti vivono di sport. A queste tre però si aggiungono altre sei categorie, quelle dei dilettanti, ossia la serie D, l'eccellenza, la promozione, poi c'è prima categoria, seconda categoria, terza categoria. E in queste tendenzialmente l'attività rappresenta un extra rispetto al lavoro. Lo sapevate? Cioè non si finisce mai di imparare facendo lo psicoterapeuta. Marcello è arrivato al massimo a calcare i campi dell'eccellenza, quindi un livello indubbiamente importante ma non sufficiente per consentirgli un impiego esclusivo e una volta terminati gli studi ha subito trovato lavoro come magazziniere. Al momento del primo colloquio è tesserato per una squadra di promozione. Certo non è come giocare tra professionisti ma la pressione è comunque alta, ci tiene a precisare lui facendo un bel sospirone. Lo staff punta a un campionato di alto livello, il cartellino di Marcello è stato pagato tramite un investimento importante e lui stesso percepisce un rimborso spese mensile non indifferente che va a integrare in maniera significativa il suo stipendio da dipendente. La dirigenza è molto pretenziosa e capita spesso che dopo i match, specialmente in caso di sconfitta, critichi aspramente le prestazioni di Marcello. Ma quali sono i suoi problemi principali? Il ragazzo si definisce fragile da un punto di vista psicologico, tende a pensare per tutta la settimana al match imminente immaginando i peggiori scenari possibili. Quando poi scende in campo, già molto teso, stremato, ha come l'impressione di aver già perso prima ancora di cominciare. Se poi, una volta in campo, inizia a sbagliare i primi passaggi, continua a rimuginare sugli errori commessi e la sua prestazione ovviamente peggiora. Marcello ha l'impressione che recentemente la pressione si è aumentata e la situazione è peggiorata. Perciò, informandosi un po' su internet, ha deciso di prendere in mano la situazione. Il dottor Bisagni capisce che Marcello ha fretta di iniziare e, percependo la sua preoccupazione, lo rassicura, proponendogli di iniziare con un percorso breve di altri quattro incontri per toccare i punti fondamentali della preparazione mentale. Raramente ci soffermiamo a notare quanto i nostri valori influenzino la nostra vita. In realtà i nostri valori guidano la nostra esistenza, attivandoci verso ciò che per noi ha importanza vitale. Ecco perché il dottor Bisagni, durante il secondo colloquio, approfondisce innanzitutto i valori di Marcello in quanto atleta, partendo dalla domanda, che tipo di calciatore vorresti essere? Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Cantava il grande Francesco De Gregorio nel suo bellissimo pezzo La leva calcistica della classe 68 e il lavoro in fondo è proprio questo, mettere a fuoco i valori che ispirano Marcello nel suo agire quotidiano come calciatore. Dopo un po' di silenzio per raccogliere le idee, il ragazzo apre il suo cuore e inizia a elencare al dottor Bisagni le motivazioni che lo spingono a praticare il suo sport preferito e il tipo di atleta che nel profondo desidera essere. Responsabilità, collaborazione, miglioramento continuo emergono come pilastri sui quali Marcello fonda la sua passione per il calcio. Il lavoro sui valori permette di mettere a fuoco come secondo step alcuni obiettivi su cui lavorare insieme durante il percorso. Nel caso di Marcello sono l'aumento della concentrazione, la gestione dell'ansia prepartita e la gestione dei pensieri successivi a un errore. Questi obiettivi riflettono il suo impegno a diventare un'atleta più completo, resiliente e coerente con i suoi valori guida. Il dottor Bisagni chiede a Marcello di ragionare sui tre obiettivi attribuendosi un voto da 0 a 10 in relazione alla sua condizione attuale. Marcello dipinge un quadro piuttosto negativo, valuta da 3 la propria concentrazione, da 5 la gestione dell'ansia prepartita e addirittura da 2 la gestione dei pensieri successivi a un errore. In seconda battuta il dottor Bisagni chiede a Marcello di rievocare la sua peak performance, ossia la migliore prestazione di carriera e lui con un sorriso racconta di un match di tre anni prima in cui si era permesso il lusso di segnare due reti di pregevole fattura. Nello specifico attribuisce il punteggio 6 alla concentrazione che aveva in quell'occasione, 8 alla gestione dell'ansia prepartita e 7 alla gestione dei pensieri successivi a un errore. Infine il dottor Bisagni gli chiede di identificare un ipotetico scenario ideale, futuro, quantificando i massimi punteggi a cui potrebbe ambire. I valori disegnati sono 7 per la concentrazione, 9 per la gestione dell'ansia prepartita e 8 per la gestione dei pensieri successivi a un errore. Una volta stabiliti i valori che come stelle illuminano il cammino e gli obiettivi da raggiungere Marcello e il dottor Bisagni cominciano a lavorare su un primo tema molto rilevante per il percorso di autosviluppo di Marcello, una migliore gestione dell'ansia e dei pensieri disturbanti. Solitamente si tende a considerare l'ansia come qualcosa di profondamente negativo a causa delle sensazioni scomode che speriamo quando siamo ansiosi. È certamente il caso di Marcello che percepisce l'ansia come un minaccioso impedimento, un qualche cosa che mina la sua performance e di cui chiaramente vorrebbe liberarsi. In realtà, gli spiega il dottor Bisagni, l'ansia ha un'importante funzione evolutiva perché ci consente di non sottovalutare il pericolo di mantenerci reattivi agli stimoli dell'ambiente. Anche in campo, un livello di attivazione adeguato è fondamentale per mantenersi vicini. Immaginate la situazione opposta, quindi senza ansia, come se foste completamente rilassati, sbattigliereste probabilmente in campo. Quindi, se troppa ansia rischia di diventare paralizzante, una certa dose di ansia invece è utile, indispensabile per performare bene. L'ansia non va quindi eliminata, ma va accettata, va conosciuta invece che combattuta ed eventualmente, quando eccessiva, va gestita in modo più funzionale. Dopo aver meglio inquadrato l'ansia, Marcello e il dottor Bisagni si dedicano ai pensieri negativi che tormentano il ragazzo e ostacolano la sua performance. A questo proposito, il dottor Bisagni condivide con lui i risultati di una ricerca scientifica che mostra come i nostri pensieri siano negativi nell'80% dei casi e ripetitivi nel 97% delle occasioni. Avete capito? Cioè, ricerche scientifiche alla mano, la stragrande maggioranza dei pensieri che facciamo sono negativi. E questo perché la nostra mente si è evoluta per portare la nostra attenzione sugli eventuali pericoli presenti nell'ambiente, in modo tale da sensibilizzarci ad evitarli o capire come occuparcene. Marcello è stupito, ma ha anche rincuorato da questo dato, che evidenzia di fatto la normalità di quello che lui vive in campo. Come gli precisa il dottor Bisagni, anche in questo caso non dobbiamo sopprimere o cancellare dalla mente i pensieri negativi. Infatti, anche i più grandi campioni ne hanno. Il punto non sta tanto nel riuscire a modificare i contenuti dei nostri pensieri, cercando di averne solo di positivi, quanto nel cambiare l'approccio che abbiamo nei loro confronti. E in questo senso la parola chiave diventa utilità. E che cosa intendo dire? Ora ve lo spiego. Nel caso di un gol sbagliato, il pensiero ricorrente di Marcello è dovevo segnare. Questa era una rete facile. Invece di volerlo eliminare o cercare di combatterlo continuando a chiedersi se quel pensiero sia vero o falso, giusto o sbagliato, con il rischio di potenziarlo, dandogli attenzione, Marcello e il dottor Bisagni si chiedono se sia utile focalizzarsi su quel pensiero. Considerando che il pensiero assume costantemente un enorme potere di distrazione, la risposta di Marcello è negativa. Quel pensiero non è utile. Risulta pertanto fondamentale imparare strategie per lasciare andare questi pensieri non utili. Naturalmente questo lasciare andare è tutt'altro che semplice da attuare. Serve molta pratica per gestire i propri pensieri negativi. Ma intanto riconoscerli è il primo step per poi imparare via via a non rafforzarli, lottando contro di essi. Nelle sedute successive il percorso diviene man mano sempre più pratico. Innanzitutto il dottor Bisagni introduce Marcello alla pratica della meditazione. In particolare gli insegna una tipologia di meditazione basata sul respiro in grado di condurre a uno stato di mindfulness, la profonda consapevolezza nei confronti del momento presente. Anche questa volta il punto di partenza sono alcuni dati scientifici che mostrano una cosa molto interessante, ossia che solo nel 53% dei casi pensiamo a ciò che stiamo facendo. La nostra mente è di per sé oscillante e tende facilmente a distrarsi dal momento presente. Ma questo vagare, questo allontanarsi dal qui ed ora, può essere altamente disfunzionale. Ad esempio nel contesto sportivo i pensieri sulle conseguenze di un errore o le emozioni che prendono sopravvento quando si è in svantaggio possono facilmente peggiorare le performance dell'atleta e compromettere così una competizione. Ed è proprio quello che accade a Marcello. Al contrario, grazie alla mindfulness, l'atleta impara ad osservare le proprie emozioni e pensieri negativi senza farsi trasportare da essi, riuscendo a tornare nel qui ed ora della competizione e dare il massimo. Il dottor Bisagni guida dunque Marcello nella pratica della mindfulness in studio e lo addestra su come utilizzarla anche a casa. Gli precisa, inoltre, come la meditazione sia efficace solo se allenata quotidianamente. I suoi effetti sono evidenti dopo poche settimane, ma se vi si ricorre solo in caso di emergenza può risultare inutile. Nell'ultimo colloquio Marcello e il dottor Bisagni si dedicano alla costruzione di rutini personalizzate, ossia sequenze predefinite di pensieri e comportamenti che aiutino Marcello a focalizzare l'attenzione nei momenti strategici di una prestazione. Le ricerche svolte nel campo delle scienze della performance, infatti, mostrano che le routine aiutano gli atleti in diverse direzioni. Oltre che sostenere la concentrazione, sono utili a ridurre l'ansia, a migliorare la self-confidence, contribuendo a un potenziamento dei risultati sportivi. In particolare vengono create due routine, entrambe di durata molto breve. La prima da attuare appena prima di entrare in campo, il momento in cui Marcello si sentiva più teso. La seconda, invece, prima dei calci d'angolo, che in allenamento gli riuscivano benissimo, trasformandosi in strepitosi assist per i compagni, mentre in partita avevano spesso degli esiti fallimentari. Terminato quest'ultimo affondo, Marcello e il dottor Bisagni decidono di salutarsi, concordando nelle due settimane successive alcuni aggiornamenti telefonici sull'andamento degli allenamenti e delle partite. Dopo tre settimane dall'ultimo colloquio, Marcello richiede un incontro di follow-up, il sesto del percorso. Durante questo sesto colloquio racconta il dottor Bisagni con soddisfazione di come la sua condizione mentale sia decisamente migliorata. Dichiara di sentirsi più padrone di sé, più tranquillo sotto tanti punti di vista. Sta praticando la meditazione con una discreta costanza, talvolta se ne dimentica, ma cerca comunque di impegnarsi a non saltarla per più di un giorno. Per aiutarlo a mantenere questa sana abitudine, il dottor Bisagni vi suggerisce alcune tecniche derivate da fattore 1%, il mio primo libro in cui spiego come trasformare comportamenti per noi importanti in abitudini. La tecnica che si rivela più utile è quella che sfrutta la leva comportamentale del feedback, che in questo caso consiste nel segnare sul calendario una X ogni giorno in cui riesce a praticare la meditazione. Graficamente l'obiettivo è che le X formino una catena che non va mai interrotta. La pratica della mindfulness porta Marcello in poche settimane ad avere diversi benefici. Quando gli si presenta un pensiero negativo distraente, anche nella vita quotidiana, ora fa meno fatica a riconoscerlo e a lasciarlo andare, rifocalizzandosi sul momento presente. Inoltre ha cominciato a far faccia con la propria ansia, la riconosce come una parte importante di sé e invece di combatterla le lascia spazio perché ne riconosce anche il suo valore. Infine Marcello riferisce di aver trovato di grande utilità anche la routine personalizzata, le due routine personalizzate, perché gli permettono di scendere in campo più tranquillo e di calciare calci d'angolo migliori. Sono stati pochi incontri quelli che ha fatto Marcello ma altamente trasformativi. Il cambiamento è in atto e adesso sta a lui trasformarlo in apprendimento per mantenere nel tempo le buone abitudini scoperte. È un atleta e sa che la disciplina e la continuità sono indispensabili per raggiungere buoni risultati e per mantenerli nel tempo. Sicuramente adesso conosce la direzione, ha sperimentato una corretta gestione della propria mente e ha toccato con mano come questa sia indispensabile per gestire il corpo. Insomma, come dicevamo all'inizio, men sana incorpore sano. E qui a Mind Center è della mente che ci occupiamo, dei pensieri, delle emozioni e di tutto ciò che può sembrare difficile da gestire perché in qualche modo è sfuggente, invisibile, è inconsistente eppure così potente. Grazie per averci ascoltato anche oggi. Ci vediamo al prossimo episodio.